La causa principale del reflusso è insita nei problemi funzionali a livello dello sfintere esofageo inferiore che si apre in momenti diversi a quelli del passaggio del chimo. Questa situazione può essere una conseguenza di un'anomalia fisiologica primitiva oppure l'effetto di abitudini di vita poco sane, come per esempio la tendenza a consumare grandi quantità di cibo e a stressare i processi di digestione. Un'altra causa del reflusso è insita nel lento svuotamento gastrico che avviene quando si consumano eccessive quantità di cibo oppure quando gli alimenti ingeriti sono poco digeribili o caratterizzati da un alto tasso infiammatorio come quelli che ho elencato poco fa. È infine opportuno ricordare che il reflusso gastroesofageo può essere un effetto di interventi chirurgici male eseguiti a livello del cardias oppure una conseguenza delle anomalie fisiche portate dall'ernia iatale che determina uno spostamento dell'angolo esofago gastrico. Quando si compie un percorso tematico riguardante il reflusso gastrico non si può non dedicare un'attenzione particolare alla tosse. Come ho ricordato poco fa sono purtroppo tante le persone che non sono consapevoli di soffrire di reflusso gastrico e uno dei motivi è proprio la tosse. La presenza di tosse secca e stizzosa è uno dei segnali principali del reflusso gastroesofageo. Le caratteristiche che devono mettere in allarme e che marcano la differenza con una tosse da vero e proprio raffreddamento sono le seguenti. La persistenza. La tosse da reflusso gastroesofageo non risponde ai presidi curativi che possono essere efficaci in caso di raffreddamento. La raucedine. La tosse da reflusso gastrico è in molti casi accompagnata da una raucedine apprezzabile che si protrae anche quando non sopraggiungono gli attacchi. L'aumento in occasione di ingestione di alimenti acidi o in seguito a pasti abbondanti. La tosse da reflusso gastrico aumenta sensibilmente quando il soggetto assume cibi acidi o acidificanti e infiammatori oppure in seguito a pasti abbondanti. L'aumento nelle ore notturne. La tosse da reflusso gastroesofageo aumenta sensibilmente nelle ore serali e notturne soprattutto se il soggetto tende a coricarsi poco dopo aver finito di mangiare. Curare il reflusso gastrico è possibile se si interviene in maniera tempestiva. I rimedi farmacologici in questo caso sono poco efficaci perché riescono solo a contenere i sintomi e possono determinare effetti collaterali anche gravi. Per esempio la soluzione degli inibitori di pompa protonica è collegata a un aumento del rischio di fratture vertebrali. Ora voglio presentarti il metodo CONNECTIS, la cura naturale ed efficace per il reflusso gastroesofageo. Di cosa si tratta? Di un percorso curativo che ho messo a punto personalmente e che prevede una serie di gesti e frizioni esattamente in corrispondenza dell'organo infiammato sul corpo del paziente attraverso specifiche manipolazioni. In questo modo riesco ad attivare contemporaneamente il sistema linfatico, il sistema nervoso e il sistema connettivale innescando una reazione curativa rapida ed efficace. Grazie alle mie istruzioni potrei seguire tu stesso il trattamento autonomamente. Non hai l'autorizzazione a esercitare la professione però mi raccomando. Sarà sufficiente guardare il mio video dove ti insegno esattamente come farlo da solo. Non mi resta che invitarti ad imparare il metodo che uso da tanti anni su tutti i miei pazienti. Guarda il video di presentazione del sistema nella parte alta di questo sito o in fondo o clicca sul link posto nella descrizione presente su YouTube sotto a questo video. Così potrai capire come questo metodo potrà aiutarti a risolvere in via definitiva questo problema. Ti auguro il meglio. Ciao da Antonio Sacchiero